Ciao a tutti, come state? Noi siamo le cuoricine, oggi sono un po' scema, comunque benvenuti e bentornati in un nuovo canale, questi sono i nostri video, guardate, sono uguali, l'abbiamo fatto uguali, allora oggi siamo qui ragazzi belli e ragazzi brutti, noi non escludiamo nessuno, tutti, allora siamo qui ragazzi perché vi facciamo vedere un haul di SHIN, scusami un attimo bella, questo è il pacco, senti bella, dai vediamo cosa c'è qui dentro, ma io lo so cosa c'è, l'ho preso io, per favore, io no, io no, quindi non lo so, dai prova a indovinare, cosa c'è? Non importa il foglio, beh non è, sta barando perché lo sa già che gliel'ho detto, comunque se vi interessa ho la nuova tinta labbra di Kylie Jenner, è bellissima, ha comprato da poco, è stato un regalo del mio marito, bellissima, la tinta labbra del mio marito, ok vabbè fa niente dettaglio, è questa che mi divina sempre fatto, allora abbiamo preso, cioè io ho preso, allora, forse ho capito, sì se è bambina li possiamo far vedere, dai, sono dei reggiseni per azzurra, sono fatti così, tipo toppine ragazzi, non è niente di osè, di sconvolgente, cioè sei tranquilla, guardate, uno è fatto così che è azzurro, l'altro è fatto così, guardate che carini che sono, eh sì è mammina, non fa niente se li facciamo vedere, oh no ragazzi, guardate che bello ho scritto l'uovo, questo lilla, stupendo, poi abbiamo questo turchese, è simone dal caldo, comunque turchese, con questi due coricini bellissimi, poi questo, rosa con queste strigliature, con la scritta love, questi cuori con le ali e le stelle, guardate che bello, sono stupendo, sono uno, due, dovrebbe essere sei, tre, buonanotte, uno, due, tre, quattro, cinque, sono cinque, no lei è bellissima oggi, comunque sono cinque, sono cinque, a noi non ce le frega niente, però va bene, allora passando al prodotto, va, mi picchia pure adesso, va bene, comunque si studa tantissimo ragazzi, spero che anche voi stiate stupendo, e adesso passiamo a un pezzo forte di questo haul, che sarebbe una cosa per azzurra, che tutte le sue amichette da casa, guardando questo video, la invidieranno ragazzi, perché è stupendo, poi toccandole è anche morbidissimo, allora, non so, non riesco ad aprirvelo tutto per farvi vedere, di chi è? 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 è una tovaglia per il mare, una, ma che tovaglia? un asciugamano? un asciugamano per il mare, però in italiano, tovaglia, ma che tovaglia? oh vabbè, comunque, si è la tovaglia per mettere, comunque è molto grande, è bellissima, ci sono tutte e due, c'è, chi è questa? come si chiama la rosa? come si chiama la rosa? si chiama Angela Angela Angela! 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 lo ho letto io, una cosa del... ma che ne so ragazzi, comunque questa è sua, e gli piace già tanto, vero? che ti piace, vero? che ti piace? ok poi, passando al prossimo prodotto, abbiamo questi stickers, questi adesivi, stickers, come li volete chiamare, basta che li chiamate, comunque, sempre del nostro adorato stitch, ne sono ben 50, poi stai ferma lì, ah ah ah, come facevo, facevo come quando eri piccola, guardate guardate com'era rilassante, allora... ma io ho detto che era così grosso eh, invece è grosso, guarda che bello, comunque... si immagini se ci sono già i soldi qua dentro no, ti immagini che c'è stitch dentro, abbiamo, ciao ragazze allora, immaginiamo questo si, ok, allora, questo, portafoglio si, ah, per tutto quello che è il MyMax portafogli, portafogli ma lo prendo io perché è il minimo allora, che schifo, guardate, tutto è bello, è liscio si, ma fai vedere cosa c'è scritto, è scritto Family è veramente scritto si, ma per questa mano, non vedo niente se no, dai, lo faccio vedere io allora, Family, guardate, in tutto suo splendore guardate così, è tutto azzurro poi ha la cernierina, sempre la zi, come viene cerniera, comunque, è sempre azzurra e il suo interno è fatto così, i soldi azzurro mi dispiace, non ci sono, però è tutto nero e è fatto così è bellissimo poi c'è un'altra cernierina qua ed è bellissimo adoro guardate, adoriamo adoriamo poi ho preso per il bagno e che è sto bagno? per il bagno, per il nostro bagno io sto sudando, non ce la faccio più allora, devo aprire un attimo sto cosa ti giuro, ragazzi, che oggi mi viene una lidarella invece le altre volte mi viene la pistola sì, le altre volte dorme oh my god che fai tu? ecco, quella che scassa tutto sì, vabbè, comunque non si vede vai bene, cosa fa? ho scassato un po' oh mio dio, ma tu sei quella che scassa tutto sì, vabbè sì, soccate la scassa tutto comunque è fatto così è il tappetino per il bagno l'abbiamo visto, guardate ciao sì, poi abbiamo preso in vista del mare perché stiamo per partire allora ho preso il costume per azzurra questo è 11-12 anni ma mi andrà ma è grosso ma è un bel culone guardate poi dopo te lo faccio misurare così vediamo prima lo dobbiamo lavare perché altrimenti non si misura niente comunque qua le tue tette ci stanno nooo vai vai tagli la palla tagli tagli la palla tagli 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 la palla ti ammazzo se non la tagli vabbè comunque poi vediamo ancora allora comunque è un caos questa bambina ho preso questa scatola questa madre cioè non ho preso questa scatola ho preso il contenuto che c'è in questa scatola sì che cosa sarà 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 oh guarda guarda eh tra poco ma non si vabbè comunque le mie amate ballerine che l'altra volta se non avete visto il video scorso di Sheen correte a vederlo e l'ho preso era 40 ragazzi io porto 38 e mezzo non c'è mai 38 e mezzo nelle taglie delle scarpe allora prendo per stare più comoda 39 e questo è 39 sì ballerine speriamo che mi vada bene io sai perché si chiamano ballerine? sì perché ballano ma non ballano ballano proprio che si diverte ma dai ma dai vabbè ho tutta la roba qua sopra ho fatto già un casino che ho rotto il ma da mangiare no ma da mangiare va bene dai vediamo questo non mi ricordo che cos'è sì cos'è ma che è uh il poncho tipo il poncho per il mare guardate questo l'ho preso per Kevin guardate con lo qua lo shark guardate è bellissimo e qui c'è il cappuccio ok continuando abbiamo anche il poncho per il mare di azzurra e vediamo questo qua com'è sì com'è da mangiare wow ma il tuo è un po' più soffice però guarda toccalo guarda tocca questo e tocca questo è più soffice è più bello sì vabbè non dite niente non avevo dubbi comunque questo è il poncho con l'unicorno guardate qui c'è il cappuccio qui ci sono guardate i bottoncini da mettere quando il bambino sarà dentro ai lati ai lati e comunque ci piace tanto poi vediamo l'ultima cosa ragazzi vi faccio vedere l'ultimo prodotto che tra l'altro era già aperto e si è aperto da solo oh è scatola magica comunque ah no ha fatto pure le pazzerie sì grazie stai per buttare le batterie che sono quelle che è importante ma io sto spettando allora questa te l'ho dovuto lo darò a te grazie e questa ragazzi è la mitica bilancia perché avevamo bisogno perché ne avevamo 3000 ma non funzionavano quindi le ho buttate e adesso ho preso questa qui gli darò una bella pulita e la userò subito perché devo fare delle cose oggi niente allora il video finisce qui spero che vi ha fatto compagnia vi è piaciuto se così lasciate un like così sostenete il nostro canale e vi siete piaciuti questo bellissimo speech e soprattutto se non siete iscritti ragazzi iscrivetevi al canale così sarete sempre ragionati sui nostri video e lasciate l'ho detto già lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanella e bla 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 comunque vi auguriamo una buona giornata fatta di tante gioie ciao al prossimo video ciao 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 ciao